Eccoci, siamo qui con l'ingegner Rossi, ormai uno degli storici di OMAT. Cosa nota qualcosa di diverso? Come vede il mercato? Chi è che investe oggi? Il mercato è ancora molto molto fermo e speriamo che manifestazioni come queste aiutino a dare una spinta ai clienti per acquistare e cercare nuove soluzioni. Mi pare che dal punto di vista delle soluzioni ci stanno molte cose interessanti e nuove da portare avanti e bisogna riuscire a coagulare la domanda dei clienti con queste nuove offerte. Quali sono le domande che più spesso vi rivolgono? Direi che ci stanno fondamentalmente due filoni. Uno è di chi vuole strumenti che gli permettano di eliminare la carta e sostituirla con i documenti elettronici e quelli che sono interessati a estrarre i contenuti dai documenti cartacei. Queste sono le due aree di maggior interesse che riscontriamo in giro. La ringrazio.